Per noi è importante partecipare ad eventi del genere perché occupandoci di attività di ricerca e selezione del personale e quindi in qualità di agenzie per il lavoro, fungiamo da punti di incontro tra domande e offerta di lavoro. Al momento le professionalità che riscontriamo sul mercato non sempre rispondono alle esigenze delle aziende quindi per noi diventa strategico creare rete per definire dei percorsi di formazione professionale per creare quelle competenze di cui le aziende sono carenti. Offriamo attività di ricerca e selezione del personale, somministrazione a tempo determinato e indeterminato, percorsi di formazione finanziate e orientamento al lavoro.